Ufficiale, signori e signori, Massimiliano Allegri esonerato con effetto immediato dalla Juventus. Una notizia clamorosa, non sorprendente, però il fatto che sia immediata e senza possibilità di continuità e soprattutto di tornare sui propri passi per questa decisione rende tutto abbastanza clamoroso. L'atteggiamento di Allegri aveva fatto notare e intendere sicuramente le tante polemiche durante la partita, dopo la partita, con il direttore di Tutto Sport, ma non solo, l'allontanamento della dirigenza durante la festa per la Coppa Italia. Insomma, una serie di cose che avevano un po' portato agli sgoccioli il rapporto con la Juventus da parte del tecnico livornese, ma nessuno si aspettava addirittura che il tecnico non fosse in panchina nemmeno per le ultime due partite. Adesso bisognerà vedere chi prenderà il suo posto per il termine del campionato, che non conta più nulla dopo la finale di Coppa Italia, ma comunque c'è ancora da giocarsi delle partite importanti per arrivare terzi, per arrivare quarti, perché comunque un clima così potrebbe anche portare la Juve a non arrivare più in alto del Bologna e dell'Atalanta in questa lotta per la Champions, che ormai è solamente a due tra Atalanta e Roma per l'ultimo posto disponibile. Ma è clamoroso, è clamoroso. Le indiscrezioni dicono che per il comportamento assunto dal tecnico, che sono lontane dalle vedute della società, ha portato al licenziamento, comunque all'esonero del tecnico livornese e io dico che forse per quello che è la Juventus, per quello che è come società, per quello che esprime, per i valori che vuole infondere, probabilmente, possiamo pensarlo un po' come ci pare, però è forse la scusa giusta al momento giusto. Allegri chiude con un trofeo, chiude con una Coppa Italia, lascia a suo modo di vedere una Juventus vincente, ma a mio modo di vedere lascia una Juventus con tanti, 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 tanti problemi. Che però, con un buon allenatore in costruzione della Nuova Rosa, quindi un possibile Diago Motta, come si è tanto parlato negli ultimi giorni, e con due, tre acquisti mirati e concreti, questa società, secondo me, questa squadra, può ambire l'anno prossimo a lottare tranquillamente per lo scudetto. Sono stati tre anni difficili di Allegri, non sono stati sicuramente come i primi cinque, perché Allegri, diciamoci la verità, nel primo quinquennio, quando ha dominato il lungo e largo con la sua Juventus, era in un calcio in cambiamento, ma che ancora non era cambiato del tutto, e lui con i suoi campioni riusciva a vincere, a portare a casa trofei, e a far, no, un pochino mettere la sabbia sopra la polvere, sopra quello che era un po' un gioco non brillante, ma che però al tempo bastava. Questi tre anni, invece, obiettivamente sono stati molto, molto difficili. Se non ci fosse stata la vittoria della Coppa Italia, Allegri avrebbe chiuso il suo secondo mandato alla Juventus con zero trofei, e considerando il fatto che ti chiami Massimiliano Allegri, che hai vinto tanto e che sei l'allenatore della Juventus, questo, insomma, anche con i giocatori che hai, è un pochino difficile da digerire. Ha conquistato la Champions, ha vinto la Coppa Italia, quindi i risultati e gli obiettivi, che secondo lui, e quelli che poi sono anche le dichiarazioni della società, probabilmente fino a qualche tempo fa, a sostegno dell'allenatore, no? Come Giuntoli che diceva che avrebbero programmato il futuro insieme a lui, si è tutto disciolto oggi con la decisione che hanno preso in via definitiva. Cioè Allegri non è più l'allenatore della Juventus, l'allenatore è stata comunicata la situazione, e diciamo che qualcuno sarà scontento, ma io penso che per la maggior parte dei casi siano tutti un po' contenti di questo addio, e adesso siamo curiosi di vedere la Juve come agirà, con Giuntoli che avrà sicuramente più manica larga nel mercato, e che si andrà poi, no, a confrontare con quello che sarà il nuovo allenatore. Se dovesse esser Tiago Motta, credo che sia un duo che possa fare molto, molto, molto bene a Torino, e Allegri ormai era arrivato al capolineo, ragazzi. Allegri sicuramente una persona molto forte caratterialmente, un allenatore che forse non cercava troppe scuse, ma molto spesso le trovava. Il litigio con il direttore di Tutto Sport è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che già, secondo me, la reazione a bordo campo, quando inveiva contro Rocchi, che si stava per levare la camicia, la cravatta e non solo la giacca, e poi, insomma, tutto, no, il litigio che poi lui non ha proprio confermato, ma che secondo me c'è stato a bordo campo durante i festeggiamenti con la dirigenza o parte della dirigenza della Juventus, dove probabilmente era incluso anche il direttore sportivo Giuntoli, e poi, dopo, sotto il tunnel di Spogliatore, insomma, le minacce, o comunque un diverbio acceso con Vicaggio, Vicario, no, Vicario no, il portiere del Tottenham, Vicaggio mi pare, non so, non mi ricordo come si chiama, insomma, il direttore di Tutto Sport, però, insomma, a cui non le ha mandate sicuramente a dire, in cui l'ha minacciato di andarlo a prendere per le orecchie, via dicendo, che sapeva dove prenderlo, insomma, gli ha detto di non fare le marchette alla società e di scrivere la realtà dei fatti sul suo giornale. Questo è stato, poi, insomma, si sono messi di mezzo anche i legali, c'è stata poi un'altra, diciamo, un'altra intervista, un altro comunicato da parte del direttore di Tutto Sport, che ha ritenuto vergognoso il comportamento dell'allenatore e di chi gli stava intorno, e alla fine, sia dal lato tecnico che dal lato umano, probabilmente era tutto finito ormai a Torino, e Allegri adesso, non so, se si prenderà un anno sabbatico, continuerà a percepire lo stipendio dalla Juve, io non so quello che succederà. Sicuramente Allegri ha scritto un pezzo importante, no, di storia del calcio italiano, dal punto di vista dei risultati, è uno degli allenatori comunque più vincenti in Italia e che ha fatto meglio con grandi squadre, sicuramente, perché il suo Milan, la sua Juve, erano squadre forti, indubbiamente. Bisognerà vedere se ripartirà subito, dove andrà, se ci sarà magari qualche colpo di scena improvviso e magari potrà casarsi in un'altra squadra in Serie A, io questo probabilmente non lo penso, sappiamo che lui dà anima e cuore, come dice, quindi magari forse un anno sabbatico potrebbe essere la direzione più giusta per magari cercare di aggiornarsi, cercare di rivedere un pochino le sue idee, perché dal punto di vista del carisma e sicuramente di come si mantiene uno spogliatoio, lui questo ce l'ha e ce l'ha sempre avuto, ma con un pochino di, secondo me, di studio, di visione un pochino diversa del calcio, può ancora dire la sua, sicuramente lontano dalla Juve, dove ormai i rapporti erano a minimi termini, anche se la curva della Juve aveva sostenuto a gran voce ultimamente anche il suo tecnico, il suo allenatore e anche la squadra non mi sembrava molto lontano dalla visione del suo allenatore. Detto ciò, termina un'epoca, l'epoca allegria alla Juventus, io credo che insomma sia più che giusto e credo che forse le modalità sono state, per come sono avvenuti i fatti, brutte, perché comunque si chiude una storia da amore, lunga 8-9 anni nel complessivo dei due cicli di Massimiliano Allegri, che ha dato tanto, sicuramente dal punto di vista dei risultati, probabilmente nell'ultimo periodo ha dato poco dal punto di vista del gioco e poco ha dato per quanto ha ricevuto insomma uno stipendio faraonico, un allenatore che insomma di soldi ne ha sempre presi tanti e adesso si apre un nuovo capitolo sperando che la Juve scelga bene il suo allenatore per i tifosi juventini ovviamente e che possa aprire un ciclo diverso da quello che ci ha abituato la Juve da sempre, magari con giocatori un po' più giovani, con un modello di gioco più offensivo, che faccia divertire anche il pubblico e comunque la Juventus ragazzi non ce lo dimentichiamo e sicuramente ha bisogno e merita di di meglio dei teatrini che ogni settimana questo personaggio ci regalava, perché poi adesso metto la mia opinione soggettiva, è stato un grande allenatore, però di clown ne abbiamo abbastanza, basta clown, più gente che parla di calcio, che gioca a calcio, che fa crescere i giovani e che fa crescere ovviamente sia in Italia che in Europa il nostro sistema calcio. Si chiude quindi così con le dimissioni, non le dimissioni, l'esonero di Massimiliano Allegri, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campagna e condividete il video, al vostro andale un grande abbraccio e ci vediamo stasera e domani con le ultime due giornate di Serie A. Ciao ragazzi!